Danza, fitness, bodybuilding e tanto altro. Una serata dalle belle emozioni, quella vissuta a San Vittorio del Lazio per salutare l'arrivo dell'estate. Un momento per tanti appassionati, la body night. Una serata dai ritmi più bariegati, la danza classica, quella moderna, la ritmica e la video dance con l'art director Giulia Di Kelly. E poi l'esibizione delle atleti professionisti e dilettanti di bodybuilding e fitness fino ad arrivare al Pilates sotto la regia di Yolanda Vendittelli. Ospiti d'onore Pasquale Capasso, Mister Universo 2022 e la campionessa italiana Valentina Violo. Un evento nato grazie alla collaborazione fra due palestre rinomate della zona, la Neptune Gym di San Vittorio del Lazio e la New Center Gym di Aquino. Finalmente dopo sette anni di apertura siamo riusciti io e Tommaso ad organizzare anche qui un evento a San Vittorio del Lazio. È stato un po' faticoso però con grande soddisfazione siamo lieti di presentarvi questa serata che si ripete da anni la body night con atleti principianti e da questi e all'insegna dell'estate vogliamo dare il frutto dei sacrifici di un anno intero di allenamento, alimentazione e sacrificio quotidiano. Prima ho iniziato come passione, ho fatto l'atleta per anni e poi ho tramutato anche in un lavoro, un'attività lavorativa. Quest'anno Carlo che è un amico da anni mi ha chiesto una collaborazione di questa manifestazione, l'anno scorso l'abbiamo fatta ad Aquino e insieme io ho dato una mano e la chiamiamo ugualmente body night perché è un proseguio della nostra manifestazione che abbiamo fatto da anni ad Aquino. Durante la serata presentata da Sabrina Presta c'è stato spazio anche per una doppia sfilata da parte delle atlete della Neptune Gym in abito da sera prima e in abbigliamento sportivo poi. Una serata quella a San Vittore che ha fatto bene al corpo e anche alla mente. Un messaggio abbastanza profondo sullo sport, su cosa significa allenarsi, mangiare sano e ad essere una quotidianità nel tempo per avere sempre un benessere sia fisico che psicologico. E a fine serata di certo non poteva mancare la premiazione di tutti gli atleti protagonisti dell'evento, un momento da ricordare. Buonanotte e alla prossima! Grazie a tutti!